Paolo Bonfi dopo una partita bellissima, forse conclusa con un po' di amare in bocca, da 3-0 a 3 pari, una squadra perfetta per 35 minuti, poi non siete riusciti a chiuderla nel finale? Sì, in effetti abbiamo avuto parecchie occasioni per chiudere la partita ma non siamo stati bravi a concretizzarla, rammarico ce n'è tanto perché sul 3-0 non puoi permetterti di regalare così tanto. Pazienza, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti così. Beh è una grande dimostrazione di forza, però se mi permetti il scalo era purtroppo inevitabile, penso negli ultimi minuti, sennò... Abbiamo fatto un ritmo molto forte, abbiamo pagato un po', abbiamo fatto rientrare la partita sul 3-1, dopo loro ci hanno creduto giustamente, sono bravi e... Dopo avete preso anche due pali esterni, però sempre due pali... Sì, due pali, il portiere ha fatto dei bei interventi, se non la chiudi è facile che gliela fanno, anche perché noi abbiamo fatto una preparazione invernale non al top e quindi abbiamo accusato sui 50 minuti il campo, sono stati bravi loro, sì. E quest'anno, dopo la grande annata dell'anno scorso, ormai non siete più una sorpresa, si punta comunque al bersaglio grosso? Eh, i play-off erano l'obiettivo minimo per quest'anno. Dopo abbiamo trovato sul cammino nostro una squadra come il Camping Recina che è attrezzatissima per questo girone. E adesso andiamo avanti così, vediamo quello che riusciamo a fare... Comunque ve la batterete per conquistare il girone? Sì, adesso siamo sotto i tre punti, una partita con le merengues che purtroppo mancavamo tanti di noi, è andata male. E... vabbè, pazienza, andiamo avanti così e cerchiamo di fare il massimo, poi vediamo dove arriviamo. Perfetto, grazie e in bocca al lupo per il prossimo. Ciao, grazie. Grazie.